Le novità del manuale della formazione continua sono fondamentali per la crescita delle professioni sanitarie. In primis abbiamo sancito quello che già avevamo fatto con l'accordo della conferenza Stato-Regioni riguardo ai moderatori che finalmente hanno dei crediti, anche il responsabile scientifico avrà dei crediti fino al 20% dei crediti dell'intero evento, quindi moderatori, responsabile scientifico e poi anche dare valore ai tutoraggi. Una cosa fondamentale si è dato valore alla ricerca perché è un paese civile, un paese che cresce anche in cultura e anche in ricerca. I nostri ricercatori non sono trattati benissimo nella nostra nazione e tant'è vero che vanno all'estero. Noi invece vogliamo con questo, per quanto di nostra competenza, dare valore al loro lavoro. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo dato la possibilità di avere otto crediti per delle sperimentazioni che vanno fino a sei mesi, sedici crediti per quelle sperimentazioni che raggiungono un anno, fino a 32 crediti per quelle sperimentazioni che sono oltre l'anno. E questa è una cosa importante per il nostro paese, come Cogeps ci stiamo anche organizzando per far sì che tutto quello che è stato scritto nel manuale venga poi applicato anche a livello della nostra piattaforma e su questo siamo già a un buon livello di raggiungimento dei nostri obiettivi. La formazione è fondamentale per chi fa la nostra professione. Il cittadino ha diritto ad avere un professionista completo, un professionista competente che sappia parlare con gli altri, che abbia tempo per la ricerca, che abbia tempo e voglia per la curiosità che ci dà la formazione in medicina e su questo abbiamo lavorato all'interno del manuale della formazione.